benvenuti a tutti e grazie di essere connessi all'appuntamento di oggi durante questo webinar scopriremo assieme il servizio di cloud backup di aruba business il cloud backup e lo vedremo poi dopo nello specifico è un servizio che consente di gestire mantenere i propri dati in backup sul cloud in piena sicurezza rispettando le policy e dell'azienda il servizio e personalizzabile per esempio già partire dalla scelta del piano tariffario consumo ma come ho già detto prima i miei colleghi andranno poi nel nello specifico del servizio e oggi siamo sempre in compagnia dei miei colleghi aruba business matteo soavi cto e mauro vaglietti senior sistemista di aruba business e nell'attesa che tutti i partecipanti si colleghino colgo l'occasione per dare alcune comunicazioni di servizio come sempre saremo insieme per 5 circa 50 minuti gli ultimi minuti saranno dedicati alle domande una sessione di question and answer quindi vi chiedo gentilmente di scrivere in chat domande dubbi e alla fine del webinar vedrò di dispondere alle domande nel tempo disponibile che ci rimane vi anticipo tanto che nei prossimi giorni riceverete via mail la registrazione del webinar le slide e tutte le risposte alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere oggi per maggiori informazioni comunque consultate il nostro sito e per rimanere anche sempre aggiornati o comunque per darci qualsiasi tipologia di consiglio o anche qualche domanda a posteriori dubbio che vi viene scrivete pure all'indirizzo mail webinar chiocciola staff punto ruba punto it direi che adesso è arrivato il momento di lasciare la mia parola a matteo quindi buon inizio e lasciate la parola matteo benissimo grazie buongiorno a tutti oggi insieme a mauro che fa parte insieme a me della squadra di ruba business andremo ad approfondire quello che il cloud backup proposto sul nostro sul nostro pannello in particolare andremo a vedere sul pannello cloud come attivare il servizio di cloud backup la scelta del piano tarifario e le varie region insieme a mauro poi andremo a vedere l'installazione dell'agent di common vault vedremo che abbiamo due agenti possibili possibili utilizzare due agenti all'interno del nostro sistema ma noi in particolare andremo ad approfondire il common vault configuriamo il backup da pannello web e andremo a configurare la retension al nostro backup uno sguardo anche alla configurazione delle parte di alerting e una demo per come effettuare ripristi di singoli file piuttosto che un bare meta chiuderemo andando a fare una verifica all'interno del pannello di quelle che sono le statistiche partiamo facendo accesso al nostro pannello cloud particolare io sono già all'interno del pannello dove trovate nella parte superiore la possibilità di scegliere la parte di backup qui siamo già all'interno del nostro pacchetto del nostro pannello cloud in particolare nella parte superiore abbiamo la scelta del backup che lo strumento vogliamo vedere oggi abbiamo già un pacchetto attivo che quello che abbiamo utilizzato oggi per fare il webinar ma è possibile attivare un ulteriore account in qualsiasi momento la prima scelta da fare è quella della tecnologia noi abbiamo sul nostro cloud backup la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi il common vault piuttosto che la vault noi abbiamo scelto di approfondire la parte relativa al common vault perché è un sistema leggermente più avanzato anche più personalizzabile ma devo dire anche un pochino più complesso quindi è importante fare un approfondimento la seconda tematica nel secondo parametro da impostare è quel della region qui è necessario fare la scelta in base a dove abbiamo attivato i nostri servizi cioè mi spiego meglio se i nostri cloud server sono attivi sulla region 1 sarà sarà più corretto impostare il backup sui t3 viceversa se io avessi i miei cloud server attivi sui t3 sarà più corretto avere un backup su un data center che si trova in t1 questo per andare ad avere ancora più sicurezza in quelli che sono i miei backup andando a impostare area geografiche e data center diversi successivamente si va ad impostare quelle che sono i credenziali e in ultimo si va a scegliere il piano tarifario qui abbiamo due possibilità il cloud backup as you go cioè in pratica paghi in base a quello che vai ad utilizzare piuttosto che la scelta di pacchetti preconfigurati quindi ci troviamo un costo diverso in base a quella che la soglia che noi vogliamo andare ad impostare quindi immaginiamo un 100 giga con il suo relativo costo e hai la possibilità di impostare qual è l'operazione che il cloud backup il servizio va a fare nel caso in cui si raggiunga la soglia in particolare viene impostato la possibilità di passare le risorse in eccesso al piano pay as you go per cui pagherai quello che il tuo canale mensile e quello che va oltre i 100 giga viene conteggiato a consumo piuttosto che l'account passa automaticamente al piano superiore quindi in questo caso passerebbe al piano a 250 giga piuttosto che l'account viene disabilitato in questo caso avviene comunque notificata all'indirizzo mail specifico che viene inserito all'interno del nostro pannello per ricevere gli avvisi dal cloud viene inviata una notifica che lo spazio storage è terminato ultima impostazione eventualmente è la possibilità di attivare appunto le notifiche di sms con un costo già attivo piuttosto che via mail una volta che abbiamo attivo il nostro account avremo la possibilità di andare a personalizzarlo comunque in un secondo momento in particolare se entro all'interno del nostro del webinar qui mi si ripropone quello che è l'account con cui abbiamo attivato il nostro nostro servizio le informazioni relative alla region il numero di agenti in questo momento sono sotto backup in particolare noi abbiamo due agenti configurati lo spazio attualmente utilizzato al nostro sistema sulla parte destra vengono già riportate alcuni riferimenti alle guide che sono molto utili nel caso in cui ci sia ci sia un dubbio e alcune informazioni che dopo magari riprenderemo con mauro relative all'attività di destroyer metal all'interno del pannello troviamo anche già il link per accedere in quello che è il sistema il pannello web del nostro sistema di backup a questo punto visto che sono già all'interno passerei la parola a mauro che vi farà vedere appunto dal vivo come utilizzare come configurare il server buongiorno a tutti dovreste vedere il mio monitor confermatevi vedo e ok questa la come vi diceva appunto è la console di gestione del cloud backup qui è dove potrete impostare configurare tutte appunto le configurazioni del backup una volta parma partiamo dalla base questa ok è la console di gestione ma qui ci entreremo una volta che avremo installato l'agent sul server per permettergli di comunicare con il nostro cloud backup troverete poi nelle slide quindi se volete potete richiedercele tutti questi link fondamentalmente però si tratta della pagina kb.cloud.it e cliccando la sezione backup arriverete qui esattamente dove la sto mostrando nella sezione 3 agent di connessione scegliendo convolt che appunto l'agent che vedremo stasera oggi e troverete la guida all'installazione al download e all'installazione il download dell'agent lo farete da questo pannello nella web console qui avrete come scaricarlo e l'installazione seguendo la guida è molto semplice e intuitiva trovate sia la guida per windows che per linux quindi windows vi fa vedere i propri passaggi con le schermate quindi si tratta banalmente di un'operazione inserite le credenziali che avete scelto prima e le password insomma e servizio verrà attivato ed è finita vedete che proprio sono quattro passaggi è finita per linux leggerissimamente più complessa ma nulla di che cioè se partite da un dai pacchetti deb avete queste prerequisiti altrimenti se sono rpm solo se intendete usufruire del pacchetto per meter restore dovete prima installare questo ma per esempio cento sotto già è preinstallato quindi non avete problemi in più per cento sotto vanno aggiunti anche queste questi pacchetti una volta che avete aggiunto questi prerequisiti basta installare l'agent quindi con il comando di pkg o con il comando rpm e una volta installato l'agent si tratta proprio di un'installazione minima lanciare la registrazione dell'agent nel nostro portale lo fate con questa riga di comanda il comando dove andrete a sostituire il nome col nome utente che avete impostato durante la registrazione e la password che avete messo subito una precisazione attenzione che il nome utente per esempio se noi qui abbiamo scelto nome utente webinar vi verrà impostato come vi ho fatto vedere prima nella schermata riepilogativa matteo come webinar slash webinar quindi nome utente slash nome utente questo è la diciamo la forma che dovrete usare comunque lo vedete bene nel pannello cloud una volta che avete registrato l'agent con questo con questa procedura diciamo è consigliabile un restart del servizio sia in caso di windows che di linux in windows addirittura un riavvito del server dopodiché ve lo troverete qui tra i server nel nostro caso abbiamo installato due agent come vi diceva prima matteo andando alla sezione protect server troveremo i nostri due server installati quindi avremo webinar come prima parte che è il nome dell'utente che noi abbiamo creato proprio per questo account cloud e poi la macchina qui la macchina linux che ho chiamato a sua volta webinar quindi sarà webinar webinar e la macchina windows che sarà invece webinar win 2022 perché il nome della macchina è questa quindi qui abbiamo evidenza che i nostri due server in questo caso li vediamo verdi perché noi abbiamo già proceduto alla configurazione inizialmente voi li vedrete con il bollino rosso che vi indica che l'agent non è ancora configurato quindi è presente sul server il nostro sistema lo rileva si parlano diciamo una cosa importante non c'è bisogno di alcuna porta esposta sul server con l'agent ovviamente il server dovrà poter comunicare in uscita cioè sarà il vostro server su cui avete installato l'agent a comunicare con il nostro cloud il sistema di cloud quindi ecco l'unica regola è che il server da cui installate l'agent possa comunicare liberamente con l'esterno e una volta che avete diciamo registrato gli agent basta entrare in un agent e vediamo come l'abbiamo configurato in questo caso è il client linux qui noi entriamo e lui ci fa vedere subito un dettaglio della configurazione dove vediamo lost name in questo caso webinar.clubbackup.it quando è stato installato la versione dell'agent il piano ecco che adesso andremo a vedere perché è uno degli aspetti fondamentali perché discriminano la retention la frequenza diciamo tutte le informazioni più importanti per un backup tutte le configurazioni lo status quindi se è stato backupato se ha avuto dei problemi o quant'altro lo stato del server quindi se l'agent comunica correttamente con il nostro server l'ultimo backup effettuato che ha avuto successo l'ultimo backup in generale e l'application size che ci interessa poco in questo momento poi vedremo la parte delle statistiche e la region ecco la region subito da impostare all'inizio non lo è facendo appunto edit e andando a selezionarla perché diciamo va a selezionare il fuso orario che poi vi servirà per andare a impostare eventualmente l'orario in cui volete fare il backup questa è la parte di backup qui vedete già un calendario che inizialmente mentre state configurando l'agent non avrete questo apparirà solo quando cominceranno a esserci dei backup effettuati perché vedremo appunto come anche andare a effettuare un restore da questo calendario ma l'altra parte fondamentale del convolt è questo il subclient il subclient indica è un po' il cuore del sistema convolt in altri sistemi come il nostro evolt si ragionava in termini di job qui invece lavoriamo a piani e subclient fondamentalmente nel subclient che lui di default crea così cioè con questo nome lo chiama default e di default lui andrà a includere tutti i contenuti all'interno del server in questo caso è Linux quindi lui gli dice root quindi tutto ok cosa possiamo fare possiamo entrare cliccando sul nome quindi in questo caso default e andare a vedere i dettagli di questo subclient vedremo appunto che il backup è abilitato potremmo anche decidere di creare più subclient e magari con contenuti diversi e qualcuno abilitare qualcuno no consiglio quello di non giocare troppo con l'abilitazione e disabilitazione dei backup è sempre meglio avere un backup abilitato con tutto la scelta del piano quindi entriamo subito nel cuore questa forse è un po' la parte più ostica che è meglio spiegare in maniera approfondita qui voi potete scegliere i vari tipi di retention e di backup di frequenza di backup che sono preimpostati quindi noi abbiamo già preparato per voi quelli che sono i backup più frequenti che ci vengono richiesti vedete per esempio retention vi spiego cosa dire ret 14 sta per retention 14 vuol dire che voi state chiedendo al sistema di avere sempre a disposizione minimo 14 giorni vuol dire che voi avrete sempre almeno 14 giorni a disposizione verrà fatto un synthetic full ogni 14 giorni e verrà fatto un incrementale ogni un giorno ho parlato di minimo ho parlato di almeno non è un caso perché questo significa che voi nel vostro account non avrete 14 copie salvate ma nella maggior parte delle volte più di 14 e adesso vi mostro come vedere nel dettaglio comunque la cosa chiara da capire è che se io vado a scegliere come ho fatto io in questo backup ret 3 sf3 e ink 3 vuol dire che io voglio un backup che mi garantisca di poter tornare indietro di tre giorni che questo mi interessa in un certo punto che il synthetic full venga fatto ogni tre giorni che l'incrementale venga ogni un giorno quindi ogni un giorno io avrò un backup anche se non ci interessa se full o meno possiamo entrare nel dettaglio e potrò tornare indietro garantito di tre giorni ok per spiegarvi meglio come funziona sempre nella nostra scheda nella nostra pagina kb.cloud.it oltre all'agent di gestione trovate la voce 4 console di gestione qui trovate alla voce adesso appena si carica vediamo convolt ovviamente perché stiamo valutando quello eccolo qui 4 2 1 retention tempo di conservazione dei dati qui i campi che sono importanti da compilare sono dei per esempio nel mio caso come vi ho fatto vedere prima vedete ho 3 3 1 quindi è dei 3 ok e dei between full 3 ok cycle e extra day sempre a 0 questo è quello che mi interessa verificare facendo calcola perché normalmente uno cosa pensa che avendo messo retention 3 io avrò tre copie del backup questo è importante per il calcolo della mole di dati quindi se ho un server che pesa 10 giga io mi aspetto di avere un full più due copie incrementali quindi in realtà comvolt non ragiona così perché per garantire una miglior sicurezza e la piena correttezza dei dati lui vuole sempre avere due full prima un altro full prima di eliminare il precedente quindi cosa succede nel caso del mio 3 retention e 3 synthetic full? succede quello che troviamo qui nella tabellina cioè il primo giorno lui farà un full quindi se ha un server da 10 giga lui farà il full da 10 giga il secondo giorno mi farà un incrementale che andrà a copiare solo i dati che sono stati variati nel frattempo sul server il terzo giorno farà ancora un incrementale il quarto giorno lui cosa farà? farà di nuovo un full perché appunto gli abbiamo detto che days between full erano 3 quindi lui al terzo giorno ha fatto un full e quindi uno direbbe ok mi cancellerà subito l'altro e questo non può avvenire perché? perché noi gli abbiamo detto garantiscimi 3 giorni di restore noi siamo al giorno 4 se voglio avere 3 giorni anche meno 2 ad esempio 1 2 giorni prima io dovrò usare questo incrementale ma l'incrementale ovviamente è figlio di questo full e quindi diciamo che lui questo full per farvi capire me lo cancellerà solo il sesto giorno quando io avrò 1 2 e sesto giorno il terzo incrementale che mi garantiscono di avere 3 giorni di retention come io gli ho chiesto all'inizio per farla in maniera un po' più semplice quindi sappiate che è una sorta di elastico in questo caso nei 3 giorni e 3 day between full che va da 3 copie effettive a 6 ok quindi automaticamente se io andrò a scegliere 14 come retention e 14 days between full sarà un elastico come vedete da questo schemino che va da 14 nel caso migliore cioè nel giorno 28 perché avremo dal primo full all'ultimo incrementale ma potrete avere fino a 28 copie totali sul server questo per darvi un'idea chiara di come funzionano le copie su backup e non farvi subito preoccupare perché per esempio ecco vedete subito qualcosa balza all'occhio quando io ho settato questo 3 giorni l'ho fatto partire sabato lui ha fatto il 13 ha fatto backup il 14 15 e quindi uno si aspettava ad oggi che è il 16 di non avere più il backup del 13 invece c'è ancora subito subito la sensazione è non sta cancellando le copie vecchie no lui qua lo terrà ancora per un altro giorno dopodiché procederà alla cancellazione come abbiamo visto prima sulla tabella quindi ecco questo è come funziona la retention una volta che lui appunto ha effettuato il backup ce lo troviamo qui per esempio il 13 vediamo un full che ho lanciato io più l'incrementale all'orario che avevo prestabilito alle 10 di sera il 14 il suo bel incrementale che fa solo lui il 15 un altro incrementale il 16 è tornato a fare il full ok più un synthetic full appunto nello stesso giorno comunque altra cosa importante è questa one touch recovery questa voce è presente solo sugli agent linux questa voce se flegata indica che il backup che noi vogliamo sarà un bare metal quindi bare metal sempre tornando a noi nella sezione kb.cloud.it avete la voce 5 che si occupa del bare metal restore ma vi spiega esattamente cos'è il bare metal ma che detto in due parole adesso vi faccio vedere proprio la descrizione ma è abbastanza banale insomma non parliamo di backupare solamente i dati del server ma anche il sistema operativo diciamo proprio la macchina stessa cioè se noi vogliamo che riprenda possiamo possiamo ripristinare il backup di una macchina intera dopo che questa ha avuto qualche problema diciamo anche a livello di sistema operativo è possibile farlo attivando l'opzione bare metal vedete un backup completo dell'intero disco compresi dati partizione boot della macchina protegge in questo lato il sistema operativo permette la ripartenza anche nel caso di guasto e corruzione disastrosa che non permettono l'avvio del sistema operativo quindi senza quel flag e dopo vi farò vedere come farlo per windows non avrete questa opzione quindi potete ripristinare i dati i singoli file il database insomma vi farò vedere e con questa funzione invece potete proprio prendere la macchina e farla ripartire come se fosse un'altra macchina addirittura potete clonarla quindi far partire una macchina gemella a quella oppure andare a sostituire quella qui vi abbiamo già messo delle guide che vi spiegano come fare nel caso vogliate ripristinarla sul nostro cloud per esempio per ripristinare una macchina ve lo faccio vedere velocemente per ripristinare una macchina windows va bene su un server vmware o hyper v c'è la differenza qui vi spiego come fare si scarica un'immagine una iso che appunto sul nostro sistema cloud si carica sul disco virtuale questo fa partire ci accede in vmwareware client per poter accedere diciamo alla nostra infrastruttura si fa partire questa macchinetta virtuale che non è nient'altro che una iso di convolt che permette di interfacciarsi appunto nel nostro data store e con i dati che vi ha prima fatto vedere matteo cioè vedete dalla vostra dal vostro pannello cloud avete appunto il proxy client name il proxy host name tutti questi dati li trovate nel pannello cloud andando impostare questo il common server host name tutti questi dati li avete nel vostro pannello cloud nell'account backup potrete ripristinare il server addirittura qui vi dice esatto fa una piccola differenza se le macchine se state clonando la macchina quindi volete avere una macchina parallela piuttosto che ripristinarla sopra l'altra diciamo quindi per linux qui trovate per windows e per linux trovate tutte le guide qui per linux lo fate fleggando questo flag per windows ve lo faccio vedere entrando nel client windows sempre ricordatevi che queste impostazioni le troviamo nella nella parte di sub client perché entriamo a fondo del della configurazione vedete che qui non ho più la la voce one touch backup ma ho la possibilità di andare a backup a lo in questo modo cioè andando aggiungerlo ok qui qui lo faccio rivedere dove ci sono i contenuti in questo caso io ho deciso che backup però solo la cartella c user di questo server non sto backupando altro quindi andando a scegliere cosa lui di default qui è stata una modifica di default lui vi dice tutto e mette già questo flag backup system state questo è il system state di windows che appunto vi permette di avere un'immagine diciamo un bare metal che vi permette di ripartire esattamente la macchina allo stato attuale quindi avere un clone è comodo tipicamente quando un cliente ci chiede non ho effettuato io la configurazione di questo server quindi sarebbe un problema anche ricreare il server anche se ho i dati mi verrebbe difficile ricreare il server e quindi allora è utile avere questo flag in modo che sono in grado di far ripartire il server esattamente come era prima configurato alla stessa maniera torniamo un attimo in linux così vi faccio vedere un esempio anche pratico quindi sub client sub client qui in linux gli ho detto ecco qui ho giocarellato giocarellato un po' per farvi vedere allora io ho nell'edit del content ho detto ho lasciato tutta la cartella tutto il root backupato e quindi sto backupando l'intero sistema poi sono andato nelle esclusioni e mi sono escluso una cartella ovviamente fittizia che ho chiamato non importante io qui ho il mio sistema linux il mio serverino dove vedete che io ho fatto per la per la per la prova due cartelle una che si chiama importante ma come tutte le altre l'ho lasciato inclusa e l'altra non importante nella cartella importante ho messo un file d'esempio file 1 che ho già provveduto a backupare quindi una delle prove più grosse è un più importante rm file 1 quindi cancello il file 1 e poi io qui invece ovviamente nella cartella non importante non avrei potuto poi ripristinarlo perché è esclusa dal backup qui adesso entriamo un po' nella prima fase di restore quello che poi ci si augura che uno non debba fare ma è la parte un po' più importante di tutto il sistema qui una volta scelta la data per esempio posso scegliere il 15, il 16 insomma è selezionata l'ora qualora abbia lanciato più backup durante il giorno c'è questo tasto che è restore quindi ho scelto la mia data ho scelto restore lui cosa mi fa vedere mi fa vedere l'alberatura del mio file system va a montare il mio file system e io qui vedete ho la cartella importante non ho la cartella non importante come ho escluso prima nella cartella importante ho il mio file 1 io qui lo posso selezionare e posso dirgli restore o download quindi posso o scaricarlo in locale perché se la macchina ovviamente non è più raggiungibile è rotta insomma ho bisogno di ripristinare i dati senza dare la macchina posso farmi il download locale e posso anche usarlo come repository storico ma comunque un restore lui mi chiede mi dà un po' di opzioni mi dice dove su quale macchina nel mio caso nel webinar se mantenere i permessi ok dati nella original folder o in un'altra folder sovrascrivere o meno quello che è il contenuto posso anche impersonare un utente in questo caso vabbè io sono root quindi non ho bisogno e anche se notificare l'esito del backup una volta fatto io faccio adesso io lascio così di default faccio submit e lui comincia a farmi il restore e mi dice attenzione il tuo restore puoi vederlo da questo job non entro nel dettaglio del job perché non mi interessa vedere esattamente cosa fa perché lo so questo job cosa fa però qui ho riepilogo dei miei job a sinistra entro i job e qui attenzione ho due macro categorie uno l'active job e uno il job history quindi ecco attenzione che se volete vedere cosa avete fatto in passato dovete andare nel job history e lì vi appariranno tutti quelli che sono stati fatti nei giorni precedenti o comunque sono completati qui tra lui adesso sta girando cambiando scheda o rifresciando insomma vediamo esatto lui ha finito il mio ripristino dice operazione ripristino completati ok se io torno sul mio server vedete che file 1 è tornato e quindi lui mi ha ripristinato esattamente il file come lo avevo prima questa è la prima opzione di ripristino quella diciamo che per quanto ci si auguri di non usare la maniera frequente però è sicuramente più frequente rispetto al bare metal dove uno si spera debba farlo proprio solamente in casi estremi ecco solo una cosa per il bare metal visto che ne sto parlando il bare metal è un'operazione abbastanza lunga mentre avete visto questa operazione di ripristino ovviamente qui parlavamo di un file di 0 byte cioè era vuoto anche tra l'altro questo file ma non è tanto la mole di file a darci problemi ma nel caso del bare metal l'operazione è abbastanza lunga cioè vi invito magari a provare a farla sul nostro server cloud o quant'altro perché proprio il tool che mette a disposizione Convolt è un po' macchinoso quindi vi inviterei a provarla però diciamo che in linea di massima anche un server piccolo parliamo di 10 20 30 giga secondo me ci può volere anche un'oretta o più per poterlo ripristinare in maniera corretta però diciamo che ovviamente si tratta di un'operazione di recupero in emergenza quando la macchina si rompe non ci sono altri modi di ripristinarli volevo farvi vedere adesso ecco una volta che abbiamo visto il ripristino abbiamo anche una parte di alert quindi negli alert qui lui ci dice per esempio ci fa vedere tutto quello che è successo quindi avremo la possibilità di vedere appunto tutto quello che è successo nel tempo ma soprattutto andare a definire quando per esempio avvisarci in caso di alcune problematiche vedete che qui lui mi avviserà via mail ovviamente con la mail che ho messo in impostazioni quando il backup fallisce quando il backup avviene correttamente e insomma posso andare a impostare quando il restore fallisce quando il restore ha successo posso andare a impostare appunto tutti gli avvisi che il sistema andrà a farmi qualora dove succedere qualcosa e vediamo un attimo un'altra parte importante io ve la dico perché il sistema appunto non lo mette a disposizione oltre a backupare il server puro come vi ho fatto vedere quello che noi abbiamo fatto adesso è un backup di come dice il nome stesso file server quindi backupa i file del server punto non va a backupare né applicazioni né software nulla cioè se non i file veri e propri ci possono essere varie filosofie di pensiero su come fare backup per esempio uno può decidere che fa un dump del database per esempio che quindi trasforma il contenuto del database in un file e quindi poi esegue il backup del file un altro modo invece che si può pensare di utilizzare è invece dico direttamente all'agent comvolt di fare un backup del database quindi qui potrò andare a aggiungere un'istanza vedete ci sono vari tipi di database per esempio MySQL e quindi potrò andare a dire a comvolt backupami direttamente tu il MySQL cioè sia per il database che per le applicazioni quindi se avete un server exchange può entrare nel dettaglio SharePoint, Active Directory, EBS App e Big Data no, parliamo di cluster ma non è il nostro caso nei job, ecco solamente per dirvi potete andare a vedere il dettaglio quindi se io vado qui e scelgo view log vedo esattamente quello che è successo nel log di quel dettaglio vi ricordo di quel job vi ricordo che tutti i log cioè questi che voi vedete qua in realtà sono all'interno del server cioè l'agent andrà a scrivere all'interno del server poi possiamo girarvi il percorso esatto sia per Windows che per Linux dove trovate questi log nel dettaglio perché soprattutto in caso del backup cioè quando voi effettuate un backup e lui fa il differenziale nel pannello di controllo non troverete la lista totale cioè puntuale del singolo file che lui ha backupato lo troverete nel log del vostro server se volete andare così nel dettaglio per capire cosa sta backupando se invece voi siete alla ricerca di statistiche diciamo per vedere cosa succede quanto spazio è stato occupando quant'altro c'è un'altra area che poi vi mostreremo quindi giusto per tornare a noi nella sezione KB Cloud Backup abbiamo visto l'agent di connessione come fare l'installazione di Convolt sia su Windows che su Linux che disinstallare l'agent disinstallazione dell'agent molto semplice vi faccio vedere una cosa qui nel protect server agent sono questi due cliccando il puntino e i puntini qui io ho retire retire va a disinstallare cioè a rimuovere l'agent dal server e a dire al nostro sistema ecco questa è una cosa importante questi dati non mi servono più perché sto cancellando il server quindi non me ne faccio più niente ok la console di gestione l'abbiamo vista diciamo abbiamo visto ad esempio di Convolt i piani di backup la retention ok selezionare il piano comunque qui potete andare poi nel dettaglio a vedere tutte le le piccole sfaccettature assegnare il piano server l'abbiamo visto eliminare il server quello che vi ho detto adesso il retire eseguire un job manualmente sì ecco potete qui dai puntini puntini dell'agent andare a dire backup direttamente e lui mi chiederà ok vuoi fare un backup full incrementale o synthetic full e io semplicemente premendo ok lui lo farà in questo momento quindi è utile se volete fare un backup prima di compiere delle modifiche al server un aggiornamento o quant'altro consultare i job attivi li abbiamo visti lo log li abbiamo visti dei job modificare il job li abbiamo visti e ricercare scaricare appunto come ho fatto vedere prima il restore e anche il download della cartella il bermatter restore appunto vi dicevo l'abbiamo visto un po' velocemente ma comunque più di seguire la guida non c'è da fare ecco vi aggiungo solo l'ultima cosa sul bermatter restore e fate un bermatter restore di una macchina virtuale attenzione a questa cosa come vi dicevo non tanto per i windows perché per i windows questo problema forse è un po' più raro ma per i linux è importante che la macchina di destinazione su cui voi andate a cercare di fare il ripristino del bare metal abbia almeno 2 giga di ram questo perché quindi vi dicevo windows sicuramente avrete più di 2 giga di ram linux può capitare che qualcuno abbia una macchina da 1 giga di ram in questo caso il software non riuscirà a eseguire il ripristino perché vi chiede appunto di montare l'immagine iso che verrà scompattata nella ram e l'immagine iso scompattata è leggermente più grande di 1 giga quindi avete bisogno almeno di 2 giga questo ve lo dico per evitarvi di far perdere tempo perché quando uno sta facendo il bare metal già è diciamo è in una situazione delicata e quindi anche evitare di perdere altri 10 minuti 20 minuti per capire che non si riesce a fare solamente perché manca la ram sappiate è un piccolo consiglio che può aiutarvi nel momento dell'aiuto comunque ecco il consiglio principale resta di provare questo bare metal restore in modo che avete idea col vostro server con i vostri dati con la vostra complessità di quanto tempo ci mette il ripristino in caso di fail del server insomma diciamo che questo è quanto io ripasserei la parola a Matteo per la parte delle statistiche insomma vediamo la parte delle statistiche il discorso del del credito e quant'altro ci tengo ci tengo a ribadire Mauro quest'ultimo aspetto del relativo al al training quindi lo so che sembra banale è tutto facile quando insegue la guida o quando Mauro ve l'ha fatto vedere però nel momento di crisi nel momento di difficoltà avere una propria guida dei propri appunti e aver già eseguito quell'attività vi assicuro che rende tutto molto più agevole e vi toglie quella parte di stress almeno relativa all'utilizzo del strumento perché già probabilmente siete in difficoltà perché quando si va ad utilizzare un backup c'è sempre quel minimo di sofferenza ecco l'utilizzo o aver già preparato provato come funziona sicuramente sicuramente vi sarà d'aiuto allora io volevo farvi vedere andiamo in proiezione perché il prodotto ci vede il monitor sì sì il desktop perfetto allora il prodotto offre all'interno del pannello web anche una parte relativa alla statistica allora in linea teorica vedete questo menu dovrebbe comparire una volta che si clicca nella parte superiore di common vault però in realtà abbiamo visto che non è sempre non funziona taluna volta allora il segreto è andare qua invece di mettere admin console potete cancellare la parte superiore e mettere web console abbiamo riportato anche nelle slide perché può essere utile se per caso vi torna questo 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 metodo non vi torna facile comunque quando siete all'interno al limite funziona correttamente dal download center per cui eventualmente andando dal download server potete tornare nel menu principale quindi da questo qua cliccando sopra in common vault vi porta al menu principale dove potete entrare nella parte reportistica e entrare nuovamente nel download center piuttosto che nel command center chiaramente questa è una cosa che va sistemata ma ve la segno perché poi uno si può trovare in difficoltà se entriamo qui nel dettaglio della parte reportistica in particolare si può andare a vedere quelli che sono i restore job come ha fatto prima quello che ha fatto prima Mauro piuttosto che andare a vedere una parte reportistica relativa ai nostri task di backup prima cosa importante la parte superiore è quella relativa dei filtri di default quando è entrata all'interno del pannello vi vengono proposti le ultime 24 ore per cui non andate nel panico perché succede spedico perché succede spesso che ci chiamano i nostri clienti che non trovano i backup è necessario come prima operazione andare a impostare un periodo maggiore in modo da avere una visione un pochino più completa poi ci sono delle sorti di gant dove sono anche interattive per cui è possibile effettuare dei filtri utilizzando questa parte interattiva ad esempio andando a scegliere solo un server tra quelli che siano attivi oppure nel caso in cui ci siano dei job falliti andare a filtrare per i job falliti e quindi andare a visualizzare quelle che sono le informazioni relative a quei backup qui vedete si ha quella sorta di schemino che aveva fatto vedere Mauro nella scelta del tipo di backup che si vuole utilizzare per cui il full incrementale incrementale synthetic full e di nuovo l'incrementale poi mano a mano che scorrono i giorni in base a retention impostazioni che sono scelte nel backup questi valori andranno a variare i filtri oltre che su questa parte interattiva si possono fare anche nella parte superiore quindi andare a scegliere il server quindi vado a togliere ad esempio quello Linux piuttosto che la tipo di etagente i job status l'importante è ricordarsi di cliccare sul pulsante apply è possibile anche andare a personalizzare quelle che sono le colonne quindi magari posso andare qui esportare in CSV andare a scegliere colonne diverse è uno strumento utile per fare reportistica che magari all'interno dell'azienda si può fornire e vengono richieste aziende che hanno certificazioni anche di avere questa tipologia di informazione piuttosto che è uno strumento utile per andare a navigare e consultare quello che è lo stato dei propri backup aggiungo solo una cosa che mi sono dimenticato di dire prima perché ci capita spesso che ce lo chiedano cioè se siete dei rivenditori che volete rivendere questo servizio a clienti ci viene chiesto ma abbiamo bisogno di un account cloud o cloud backup o più account cloud backup la risposta dipende come voi vorrete gestire questa cosa cioè se sarete voi come rivenditori a gestire i backup per tutti i clienti potete avere un unico account cloud dove inserirete più macchine ok più agent sulle macchine e lo comanderete voi il pannello però è monoutente quindi se avete bisogno di dare l'accesso diretto al cliente per far vedere i suoi backup che sia anche libero nel ripristinarselo che possa fare quello che vuole allora dovrete creare un utente un account cloud per ogni cliente in modo che lui possa entrare con i suoi credenziali e vedere i suoi server e il suo ambiente un altro elemento importante di questa parte di portistica è il site of application che è esattamente il dato arrotondato al giga che troverete all'interno del pannello quindi questa colonna site of application che è il totale dello spazio utilizzato da tutti i server che sono all'interno di quell'account per cui se io vado e filtro ad esempio solo per una solo per un elemento andrà a cambiare ma andando a togliere i filtri applicando l'intero contenuto 10,15 deve essere correttamente impostato deve combaciare con quello che sta all'interno del pannello del cloud chiaramente arrotondato quindi 10,x vanno a finire agli 11 giga ora a questo punto vi riepilogo quelle che sono i link che vi arriveranno nella mail con le slide in modo che avete dei riferimenti rapidi per andare a rivedere quello che vi ha indicato anche Mauro quindi la guida al cloud backup dove si entra nello specifico del common vault come si installa la gente la configurazione del retention con quello schema che ha fatto vedere Mauro per calcolare quanti sono questo è molto utile perché in base se avete già l'idea di quale corserà lo spazio occupato dal vostro server potete fare un'idea di quello che è la quantità totale di dati che andrete a backupare e scegliere quindi se attivare un pacchetto di una certa dimensione piuttosto che il perpe use perché magari siete consapevoli che sopra quel server non ci sono così tante informazioni la guida per effettuare il bermatter backup e vi ho riportato come andare a modificare il link per andare alla web console dove trovate non solo la dashboard ma anche la parte di download degli agenti e della reportistica come ultimo riferimento perché è importante ricordarselo nel caso in cui si voglia effettuare un bare metal backup per Windows è necessario andare nel content e importare questo backup system stale che indica che volete fare il bare metal questo ci differisce da Linux e ricordate perché è percomplex una parte generale io con questo avrei concluso e vi vi riporto il link nel caso in cui vogliate mandare delle domande Lorenza per caso sono arrivate invece allora eccomi ragazzi sì sì sono arrivate alcune domande e siccome il tempo sta stringendo ve ne seleziono alcune partiamo subito con una che è rivolta sicuramente a Mauro come si eliminano i dati di un backup ecco qui diciamo per chi è abituato a usare il nostro sistema Evolt diciamo la situazione è nettamente differente nel sistema Evolt quindi quello precedente avevamo l'obbligo da parte del cliente di richiederci espressamente il fatto che i dati venissero cancellati per il backup qui se vi ricordate prima vi ho fatto vedere come fare la rimozione dell'agent cioè quel retire se voi selezionate retire il sistema oltre a disinstallare l'agent sul server capisce anche che voi non volete più i dati di quel server quindi quando fate retire attenzione che state dicendo al sistema cancellami l'agent dal server ma oltre a questo segna i dati come non più necessari vuol dire che non li cancella in maniera diciamo immediata quindi se voi avete fatto un errore o quant'altro reinstallate immediatamente l'agent lo riconfigurate i dati ve li ritrovate subito ma se voi lasciate per passare anche poco tempo parliamo di scattare dell'ora in realtà perché è ciclico ogni ora i dati vengono cancellati quindi diciamo è una comodità perché in caso di errori voler far pulizia o quant'altro rispetto a prima i dati vengono cancellati ma fate attenzione il retire vuol dire cancella l'agent e elimina i dati ok e invece un'altra domanda è il cloud backup funziona solo sui server o anche sui client in particolare chiedono anche sui sistemi apple allora il client si può installare su windows su linux su mac non ancora ufficialmente nel senso che convolt ha rilasciato già dei pacchetti di installazione e quindi abbiamo dei clienti che lo usano su mac non lo trovate ancora nelle nostre guide ufficiali perché non ancora ufficialmente supportato diciamo quindi è questione di poco tempo sappiate che andando direttamente alla pagina di convolt trovate anche l'agent installazione per il mac purtroppo non è ancora ufficialmente supportato quindi direi se cercate supporto se cercate la garanzia per il momento non c'è questa ma contiamo a breve di averlo anche per mac ok grazie è stato mi sa esaustivo allora invece Matteo le retention sono personalizzabili? come vi ho fatto vedere prima Mauro in realtà la retention è possibile scegliere tra un elenco che mettiamo a disposizione quindi noi abbiamo fatto questa è una nostra scelta naturalmente e quindi ce ne sono diverse su cui scegliere dove cambia sia la retention sia la possibilità di effettuare i full il numero dei giorni per cui effettuare il full però al momento non è possibile personalizzarli su richiesta eventualmente si può avanzare la richiesta e nel caso in cui per quella tipologia di retention vengono fatte più richieste eventualmente valutiamo la possibilità di inserire la parla di media direi che si sceglie tra quelle che sono già configurate ok e invece dove trovo la gente da installare sul server ecco questa è un'ottima domanda tornerei all'interno del pannello come vi ho fatto vedere prima qui quindi andando a mettere web console compare anche il download center piuttosto che all'interno della dashboard all'interno della dashboard del command center nella parte a sinistra trovate il menu del download center qui è importante fare attenzione perché non è che una volta scaricato l'agent va bene per tutti siccome sono agent autoconfiguranti dentro ci sono scritti e sono stati personalizzati da commonwealth per noi dentro ci sono scritti i parametri del data center che avete scelto per cui dipendono dalla region in cui avete attivato il commonwealth quindi quello che consigliamo è andare all'interno in quest'area e ogni volta andare a scaricare il pacchetto corretto chiaro allora ragazzi io direi che ci sono altre domande ma risponderemo poi diciamo che chiuderei qui concluderei qui questa sessione anzi grazie ancora di esservi di essere qui e grazie a tutti i collegati vi ricordo che per tutti i partecipanti per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti seguite pure le nostre pagine la nostra pagina linkedin e la pagina web di Aruba Business ogni come ho detto all'inizio qualsiasi domanda potrà essere fatta alla alla mail che vedete qui vi ricordo che domande alle quali risposte alle domande alle quali non siamo riusciti a rispondere ora la registrazione del video e la presentazione vi verrà inoltrata alla mail di iscrizione nei prossimi giorni quindi non mi resta ancora che ringraziarvi buona giornata a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie